Parliamo di artigianato, un settore in via d'estinzione? Oppure no, per una volta parliamo di artigianato vivo. Mostriamo l'energia vitale delle botteghe, raccontiamo storie antiche e giovane entusiasmo, dimostrando che saper fare significa tradizione, ma anche crescita economica e innovazione sociale. Come facciamo a fare tutto questo? Con Crazy Kit, un'app per tablet e smartphone, completa di website, che parte da Palermo. Ma non intende fermarsi qui. L'app comprende mappe ricche di contenuti multimediali, da esplorare a piedi o con un semplice click. Uno shop, dove acquistare prodotti artigianali unici, ma soprattutto innovativi. E la funzione segnala, con la quale indicare artigiani meritevoli o proporre le tue idee più innovative, contribuendo attivamente a ridare dignità e valore al lavoro artigiano. Crazy Kit! Bisogna trascorrere più tempo con le persone che sanno fare le cose.